Tre generazioni di giovani artisti, allievi ed ex allievi del liceo Martin Luther King di Favara si sono riuniti da varie città d'Italia per rendere un omaggio agli angeli in corsia e accendere il fuoco della speranza con le parole e la musica. Signore e signori, ecco a voi domani, 4 maggio 2020. La musica e la scuola hanno un'enorme responsabilità, quella di dar voce ai pensieri liberi, spesso trascurati, e diffondere valori e sapere. Insieme possono essere un magnifico antitodo alla paura e all'ignoranza. E' proprio questo quello che ci siamo proposti di trasmettere con questo video. Siamo felici, affermano i ragazzi, di avervi regalato 4 minuti per pensare. Tra le strade deserte, li affollavamo distratti, c'è un silenzio assurdante che ci fa pensare. Dove sarò domani? Dove sarò? Tra le parti e le sale, sempre qualcuno di corsa. Una lotta infinita che ci fa scoraggiare. E ti contro la voglia, manda di andare. Grazie. 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 E comincia domani Grazie a tutti